Si guarderanno ancora da lontano le quattro squadre che guidano la classifica della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie 1 femminile. In attesa del turno infrasettimanale di mercoledì 22 novembre, che le metterà di fronte, la sesta giornata comincerà sabato sera con l'anticipo tra i Moco Volley Conegliano, una delle due formazioni a punteggio pieno, e il Saugella Team Monza. L'altra capolista, 15 punti, la Savino del Bene Scandicci, sarà invece impegnata domenica pomeriggio sul campo della Mai Cicero Volley Pesaro, e attesa da una delle sfide più classiche dei tempi recenti, l'Igor Gorgonzola Novara, anch'essa imbattuta ma con un punto di ritardo dal duo di testa. Le azzurre ospiteranno la Fofa Pedretti Bergamo, ultima a quota zero ma con l'ottimismo che deriva dal recupero, pur non ancora completo, di Malino Vesilla. La UNIT Workboost Orsizio, reduce da quattro vittorie consecutive, se la vedrà in casa nel derby con la vicina Sab Volley Legnano, chiudono il programma domenicale le sfide del Mandela Forum tra il Bisonte Firenze e la Pomica Salmaggiore, all'esordio con Cristiano Lucchi nel ruolo di primo allenatore, e del Palabaldinelli tra Lardini Filottrano e Liugio Normeccanica Modena. Sì, veniamo da un momento positivo, veniamo anche però da un periodo tosto per noi, dieci gare giocate in un mese, questa è l'undicesima, la sesta giornata di campionato, un nuovo avversario, un avversario temibile, tosto, sarà una gara difficile. Monza è una squadra che si sta dimostrando un avversario difficile per chiunque, nonostante gli alti e i bassi.